Stamattina parleremo di una pianta, anche questa a me è molto cara, quindi faccio seguito alla lezione precedente in cui abbiamo parlato del cistus incanus per spiegare tutti i benefici di questa pianta, come e perché la si può, anzi la si deve usare e cercheremo di fare chiarezza perché quello che è importante è proprio distinguere qual è la qualità che vi farà decidere per l'acquisto migliore sia a livello chiaramente di azienda, e io vi spiegherò che cosa ho scelto io nel frattempo oppure in aggiunta anche che cosa è meglio per voi tra le varie opzioni che potete trovare in giro quindi attendete solo un attimo che faccio alcuni inviti soprattutto alle persone che in questi giorni mi hanno contattato e mi hanno proprio chiesto di spiegare un pochino le differenze dopodiché se qualcuno è già collegato a questa diretta e mi dice per favore se appunto si vede bene, si sente bene, eccetera eccetera e partiamo con quello che è la nostra piccola live di informazione C'è qualcuno collegato? Rosaria, buongiorno, cara, grazie che sei sempre presente perché so che hai molta stima e fiducia nelle mie parole perché mi conosci come professionista Valeria, ciao, benvenuta, grazie per essere qui Ditemi solo se è tutto a posto se l'audio si sente se si vede tanto termino i miei inviti do il buongiorno a tutti oggi è una giornata molto ventosa ma soleggiata per fortuna questo magari permette anche un po' di pulizia dell'aria che è molto importante in questo periodo e anche quello che chiaramente faremo D'accordo, perfetto, grazie, grazie tante Rosaria, grazie Valeria ok, allora direi che siamo pronti per partire con questa spiegazione allora intanto chi mi conosce e mi segue lo sa bene noi naturopati sosteniamo l'integrazione nutrizionale quindi siamo tra coloro che ritengono che l'alimentazione moderna sia ben lontana dal garantire all'organismo le quantità necessarie di nutrienti per funzionare al meglio e quindi per mantenersi proprio ai più alti livelli di energia, vitalità e difendersi dalle malattie il vero lavoro di prevenzione che in questi giorni è veramente alla ribalta si sente solo parlare di questo, di salute, di prevenzione eccetera chiaramente deve essere fatto dando al corpo tutto quello che è necessario per mantenere la salute, la forma fisica, il benessere anche mentale perché in questi giorni siamo veramente tutti quanti sotto stress ed è assolutamente necessario mantenere anche la calma la cosa migliore da fare ovviamente non è sempre solo correre ai ripari ma è pensarci per tempo quindi senza aspettare che il corpo abbia già manifestato problemi di salute segni di carenze assumere degli integratori è chiaramente un grosso aiuto che va abbinato a una sana alimentazione e anche a una vita attiva con sport, tempo all'aria aperta, coltivare i nostri hobby avere il tempo per occuparci anche di stare con i nostri effetti più cari questa è proprio quella che io ritengo la ricetta per la longevità in salute da una parte le coltivazioni intensive hanno comunque reso poveri anche i prodotti che mangiamo e dall'altra c'è anche da dire che quando decidiamo per integrazione incappiamo magari male perché la stragrande maggioranza degli integratori multivitaminici in commercio in Italia contiene anche dei dosaggi di vitamine molto bassi quindi insufficienti e peggio ancora spesso e volentieri soprattutto quelli molto economici quelli che trovate nella grande distribuzione mi spiace dirlo però sono di sintesi, sono sintetici e il corpo non li riconosce assolutamente come benefici e come naturali quindi si possono paradossalmente avere delle reazioni non buone da parte del nostro corpo c'è anche da dire che le persone di questi tempi sono anche plurimedicalizzate è ovvio che alcuni farmaci sono anche dei salvavita e a volte sono necessari però altre volte penso che concorderete con me che sono anche come dire abusati e dispensati con leggerezza o peggio ancora assunti autonomamente con leggerezza i farmaci ma anche la pillola anticoncezionale per esempio o il trattamento ormonale sostitutivo che danno molti medici a noi donne peraltro sottraggono proprio al corpo delle vitamine, dei minerali, dei nutrienti importanti per cui anche le persone che mangiano in modo sano, equilibrato possono ritrovarsi comunque ad avere delle carenze in alcuni periodi della vita peraltro il fabbisogno aumenta ad esempio in gravidanza, quando si allatta, nella prima infanzia in cui si deve costruire tutta una bella struttura nella terza età o anche gli sportivi, gli sportivi che fanno uno sport intenso chiaramente hanno un fabbisogno diverso, maggiore di alcuni nutrienti che perdono facendo dello sport magari non adeguato alla propria costituzione o anche semplicemente non magari mangiando bene o osservando alcune prescrizioni che andrebbero invece fatte poi chiaramente cosa incide tanto? incide anche il nostro stile di vita il lavoro che facciamo quasi tutti al chiuso il lavoro che facciamo a contatto con sostanze tossiche lo stress familiare, professionale le abitudini non sane che tutti abbiamo i cosiddetti vizi, l'alcol, il fumo, le droghe così cosa succede? che ci ritroviamo stanchi, intossicati con la pelle spenta, con poca energia e quindi così come portiamo anche la nostra auto a fare il tagliando periodico anche per noi occorre pensare di fare dei cicli di depurazione di disintossicazione, di drenaggio, di pulizia intestinale eccetera, tutto quello che può servire dopo queste premesse doverose arriviamo all'argomento di oggi che è appunto l'aloe in commercio sotto il nome generico di aloe possiamo trovare tantissimi prodotti quello che fa la differenza e che deve motivarci nella scelta sono questi parametri la qualità innanzitutto la concentrazione dei principi attivi specifici della pianta altrimenti è inutile il tipo di lavorazione le certificazioni che questo prodotto ha la chiarezza dell'etichetta e anche l'involupro che contiene il prodotto sono tutti fattori che sono da valutare prima di acquistare un integratore quella che ho scelto per voi e che vi presento oggi fa parte della linea integrazione Vegas Vital della Vegas Cosmetics che peraltro ha un ricco catalogo di integratori validissimi e potenti tra cui l'aloe drink appunto Vegas Vital allora l'aloe Vegas Vital è ricavata dalla pianta dell'aloe vera della varietà Bardensis Miller che viene coltivata biologicamente in Andalusia ossia in Spagna le coltivazioni relativi terreni sono di proprietà dell'azienda e la cosa bella è che si estendono per chilometri e sono lontane da ogni tipo di inquinamento industriale e commerciale essendo produttori chiaramente mettono in campo tutti i controlli e tutti i parametri per ottenere il miglior succo questo è molto importante il secondo punto importante è che la certificazione biologica è certificata dall'Unione Europea e probabilmente molti di voi non sanno che l'Unione Europea ha delle regole più ferre più restrittive rispetto ad altri paesi ad esempio su ogni bottiglia dell'Aloe che vi mostrerò sono visibili le certificazioni anche il Ministero dell'Agricoltura responsabile garantisce proprio l'origine controllata e il monitoraggio della coltivazione biologica della bevanda naturale Aloe Drink e ha proprio un sigillo di qualità chiamato CAAE questo lo si vede adesso vi mostro la bottiglia che è il simbolino un altro punto importante il terzo punto riguarda proprio la qualità del prodotto molti prodotti a base di aloe che troviamo in commercio ce ne sono veramente tanti non solo non sono bio ma sono coltivati in altri continenti questo cosa può dare può dare dei problemi legati all'importazione alla conservazione della pianta fresca al suo trasporto allo stoccaggio e anche appunto per la successiva lavorazione che magari avviene in paesi anche distanti dal luogo di coltivazione della pianta cosa succede allora che molte aziende adottano la tecnica di liofilizzazione ossia eliminano tutta la parte umida del succo di aloe a differenza diciamo del tradizionale succo di aloe liofilizzato in polvere il nostro prodotto è proprio spremuto in polpa fresca e imbottigliato in 24 ore dal trattamento quindi praticamente immediatamente nei commenti poi se volete metterò anche un video per farvi vedere proprio le fasi aziendali di preparazione del succo di aloe perché non viene oleofilizzata perché la parte attiva dell'aloe è proprio l'acce mannano che resterebbe nell'acqua che viene eliminata con l'oleofilizzazione quindi nella bottiglia di aloe della vegas non troverete mai come ingrediente l'acqua ma sempre puro succo di aloe al 100% e anche questo bollino lo garantisce il quarto punto sottolinea quindi questi fattori importanti quindi l'aloe non è stata pastorizzata quindi non è stata lavorata col calore per cui non vengono disperse le sostanze nutritive che vedremo in seguito che sono termolabili e termosensibili ossia vengono distrutte e modificate con il calore non ha addensanti di nessun tipo che invece in altre marche controllando le etichette potrete trovare perché se è liofilizzata per renderla nuovamente gel ad esempio molte aziende mettono l'oxantano o altri addensanti che non sono propriamente così innocui e salutari soprattutto magari considerato che se si assumono ad alte dosi si sommano magari ad altri prodotti o integratori ma anche solo alimenti che contengono questi addensanti alla fine dell'anno ci ritroviamo con chili chili di sostanze inutili e magari anche dannose nel nostro corpo il punto 5 secondo me è sicuramente il più importante sul quale focalizzare l'attenzione perché l'aloe di vegas contiene almeno 2000 mg di acce mannano per litro al suo interno contro ad esempio i 400 mg per litro che si trovano spesso in altre aziende alcune aziende ne dichiarano ad esempio 600 o più ma facendo un rapido calcolo ci vogliono 4 o 5 bottiglie per ottenere lo stesso contenuto di acce mannano di una sola bottiglia di aloe vegas quindi sempre che appunto non sia ad aloe liofilizzata ragioniamo anche in termini economici quanto spendereste di più per ottenere lo stesso risultato con un dispendio di soldi almeno di 4 o 5 volte di più perché per fare una bottiglia ce ne vanno 4 o 5 di altri prodotti magari validi ripeto aziende valide ce ne sono io ho fatto la mia scelta per questi motivi che adesso vi sto illustrando altro punto importante è il punto 6 che è la confezione che è in vetro farmaceutico oscurato guardate sentite questo è vetro questo è un vetro scuro importantissimo perché non ci sono aziende che utilizzano il vetro per il loro prodotto soprattutto cosa succede che con il vetro scuro il prodotto resta stabile viene protetto dalla luce dall'ossidazione e soprattutto il vetro è un materiale riciclabile anche essere etici io ritengo sia molto importante quindi nel prodotto che berrete non ci saranno molecole di plastica vengono consegnate molto ben imballate a prova di urto con il misurino dosatore vedete punto 7 viene garantita la totale assenza di aluina proprio per la lavorazione che estrae soltanto la parte interna della foglia di aloe barbadensis miller che come abbiamo già detto prima è biologica è lavorata proprio manualmente entro le 24 ore dalla raccolta l'aluina è una sostanza antrachinonica che se presente dà un effetto lassativo da dei problemi gastrici crampi diarrea che insomma non sono proprio il massimo l'ottavo punto è che la vegas garantisce la totale assenza di coloranti e soprattutto di conservanti chimici per lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per l'oxantano tanto per fare un esempio l'aloe natural la versione natural presenta il 99,98% di aloe e uno 0,02% di limone di acido citrico usato per conservare il prodotto tutte le informazioni sono chiarissime l'etichetta è esaustiva e l'etichetta è quello che fa testo perché io cerco di mostrarvela quanto è completa e complessa prendete una lente di ingrandimento perché per poter mettere tutte le informazioni praticamente la scritta è molto piccola però ribadisco c'è una correttezza anche dietro quello che l'azienda fa e l'azienda mostra e l'azienda scrive si prende la responsabilità assoluta di quello che c'è dentro il prodotto se prendete due prodotti simili vedrete che anche le etichette sono assolutamente incomplete non precise un po' vaghe insomma per me che come lavoro primario appunto faccio consulenze di naturopatia integrata questo è stato una delle prime cose che io sono andata a verificare quindi non solo la qualità le informazioni ma la completezza dell'etichetta altro punto importante il nono è che non troverete dolcificanti pericolosi come ad esempio la cesulfame K benzoato di sodio non ci sono modifiche all'interno del prodotto il sapore è quello della pianta è un sapore gradevole non ha nessun tipo di necessità di essere dolcificata quindi anche questo è importante perché se noi stiamo prendendo un integratore non andiamo a cercare delle sostanze che ci facciano male perché i benefici ne sarebbero comunque un attimo limitati o peggio si possono creare anche delle reazioni all'interno del corpo con queste sostanze chimiche che non sono propriamente salutari penso che fin qui sia tutto chiaro comunque se ci sono delle domande potete comunque scrivere nei commenti se non riesco a leggere mentre vi sto parlando chiaramente risponderò dopo potete comunque contattarmi per ogni informazione che vi necessita a questo punto vi chiederete ok va bene abbiamo capito come distinguere la qualità ma voglio conoscere i benefici di questo aloe drink Vegas va bene allora parliamone il più grande pregio dell'aloe è di essere una pianta adattogena cosa significa adattogena che agisce nell'organismo in modo adattativo svolgendo numerose funzioni sulla base delle esigenze del corpo ha sempre un'azione di regolazione questo è importante non spostare i delicati equilibri del nostro corpo andare a dare quello che serve senza interferenze ha una sua come dire intelligenza che la rende utile la rende utile ma la rende anche unica se vogliamo sa dare vigore sa dare forza salute agisce praticamente in modo adeguato alle necessità quindi unisce l'azione di nutrimento e vedremo a breve con cosa a quella di disintossicazione e di rigenerazione quindi è importante perché grazie alla sua appartenenza alla famiglia dei polisaccardi la cemannano di cui abbiamo parlato prima che quindi è la prima domanda da fare chi vi propone un aloe è proprio quella di influenzare il sistema immunitario perché stimola l'attività dei macrofagi e con essi ovviamente stimola la produzione di citochine e sostanze che potenziano le difese contro vari agenti patogeni la sua attività di protezione delle mucose dello stomaco e dell'intestino si rivela molto ma molto importante nei casi di acidità di stomaco di reflusso gastroesofageo ed è quindi preziosissima un preziosissimo aiuto per chi soffre di gastrite e di problemi digestivi è proprio il primo rimedio a cui pensare quando si hanno questi problemi e quindi avere sollievo da fastidiosi disturbi come insomma quelli che riguardano l'apparato gastrico il succo di aloe drink peraltro facilita lo smaltimento delle tossine accumulate lungo il tratto digerente e l'acee mannano offre inoltre proprietà antibatteriche antifungine e battericide la cosa importante è che idrata e lenisce tutte le mucose no? le mucose dalla bocca all'intestino sono tutte mucose ma anche in realtà le mucose polmonari diciamo che lenisce tutte le mucose la pelle migliora perché migliora la pelle perché diventa lo specchio esterno del benessere gastrointestinale del nostro fegato che il fegato vi ricordo che l'organo filtro più importante per sostenere la detox aiuta proprio nell'assorbimento dei nutrienti aumenta anche la tolleranza agli alimenti e rende di fatto anche meno forti i sintomi delle allergie e delle infiammazioni quindi questo è un altro motivo per utilizzarla se siete persone che soffrono di allergie che hanno intolleranze agli alimenti i vostri sintomi le vostre manifestazioni miglioreranno tantissimo con l'aloe cosa contiene l'aloe allora intanto contiene vitamine minerali che sono proprio le chiavi per attivare centinaia di funzioni biochimiche come immaginatevi una macchina una macchina che ha comunque la benzina lucida senza polvere con tutto l'olio a posto eccetera eccetera e poi non avete la chiave per accenderla ecco vitamine minerali si chiamano proprio cofattori perché sono chiavi per attivare queste centinaia di centinaia di funzioni biochimiche tra le vitamine contenute nell'ave trovate la A trovate la vitamina E trovate molte delle vitamine del gruppo B la 1 la 2 la 3 la 6 la 12 e anche l'acido folico che ovviamente è importantissimo anche per la formazione dei globuli rossi trovate dei minerali tra cui calcio fosforo potassio ferro sodio ma anche magnesio magnesio rame cromo zinco quindi insomma una bella quantità di minerali che necessitano al nostro corpo cosa molto importante contiene ben 18 degli aminoacidi rispetto ai 22 fondamentali quindi quelli chiamati essenziali perché si chiamano essenziali perché non vengono prodotti dal corpo umano e devono comunque essere introdotti dall'esterno quindi assumendo l'aloe ne abbiamo ben 18 su 22 contiene anche degli enzimi metabolici di enzimi digestivi contiene bioflavonoidi contiene dei polisaccaridi appunto tra cui anche l'acemannano che sono utili utilissimi anzi come antinfiammatori e con qualità curative ben note sulle quali non mi soffermo ma avremo modo di parlarne ulteriormente all'interno dell'aloe trovate anche l'inulina che ha un effetto prebiotico cosa significa prebiotico che va a nutrire la nostra flora batterica intestinale che è proprio anche la sede del nostro sistema immunitario Vegas è stato previdente è stato avuto un'ottima intuizione nel differenziare la linea dell'aloe dell'aloe drink perché oltre la linea natural quindi 100% succo di aloe ha creato altre due versioni l'aloe honey miele e l'aloe greviola la versione con miele contiene il 5% di miele millefiori può essere somministrata in questo modo più facilmente agli anziani e anche ai bambini perché ha un gusto più dolce chiaramente ai bambini la dose giornaliera si può dimezzare ossia ai bambini si dà un misurino per tre volte al giorno ma da 15 ml qua vedete la scala graduata quindi 30 ml fino a qui e metà è quello che serve ai bambini diciamo bambini dai 12 anni in su possiamo considerarli adulti quindi per gli adulti il dosaggio curativo ed efficace dell'aloe è proprio 30 ml per tre volte al giorno quindi adulti o ragazzi dai 12 anni in su il contenuto di zuccheri per la presenza di miele e per dose giornaliera di aloe e honey è di circa 6,6 grammi che chiaramente si dimezza nel caso del dosaggio per bambini si può scegliere questa versione al miele soprattutto nel periodo invernale quindi questo è ancora un ottimo periodo perché praticamente questa versione cosa fa unisce i benefici dell'aloe a quella energizzante del miele quindi è ottimo per chi ha la tosse raffreddore per combattere tutti i rotavirus e ogni forma virale presente in questo periodo è anche una bevanda decisamente energizzante quindi dà molta energia alle persone asteniche quelle stanche quelle convalescenti quindi magari che si sono ammalate o stanno combattendo contro una malattia debilitante è utile per le persone eccessivamente magre quelle costituzionalmente debole quindi ci sono vari utilizzi va bene per tutti ma se proprio devo differenziarvi le varie versioni queste sono le mie indicazioni è utile anche per le persone che hanno carenza di vitamina B12 che magari seguono appunto dei regimi alimentari restrittivi o hanno delle loro caratteristiche individuali per cui vanno in carenza della vitamina del gruppo B invece l'aloe con graviola contiene il 25% di polpa del frutto bianco che è coltivato in Gran Canaria la graviola è proprio il nome con cui le popolazioni di lingua portoghese indicano l'albero che si chiama annona muricata questa pianta è eccezionale per chi sta affrontando una dieta perché la graviola tra le sue tante proprietà è anche proprio nota per ridurre il senso di fame peraltro elimina i metalli pesanti tra cui il pericoloso mercurio e anche i parabenni dal corpo fa un effetto chelante cosa vuol dire che li pinza come se fosse una chela di granchio li pinza li aggancia e li porta via per eliminarli senza che facciano danni al nostro sistema riduce anche l'acne e tutte le problematiche infiammatorie che si sfogano sulla pelle con ezzemi dermatiti pruriti eccetera regola anche il metabolismo lipidico perché abbassa il colesterolo LDL quello cosiddetto cattivo e ne riduce l'ossidazione che è la parte diciamo pericolosa del colesterolo è un frutto ricco di vitamina C quindi insieme a tutte le vitamine minerali che abbiamo visto prima che già sono contenute nell'aloe aumenta la presenza della graviola aumenta la presenza di vitamina C che peraltro è un ottimo anti-influenzale già di suo aiuta le donne e gli uomini a tenere la pelle bella senza rughe perché ha anche un'azione proprio di migliorare quella che è la struttura che sostiene e che è importante per la pelle la graviola ha proprio un'azione diretta contro i virus quindi torniamo a essere sempre molto attuali nel periodo invernale e può aiutare per esempio chi soffre di herpes ricorrenti a chi si ammala spesso di malattie virali come ad esempio l'influenza forme virali di bronchiti e di polmoniti quindi dà anche un sostegno a tutto l'apparato respiratorio e qui torniamo anche proprio al discorso del sostegno anche delle persone che soffrono di allergie unita al cissus in canus di cui ho già parlato in un precedente video e se non l'avete visto vi invito ad andarlo a cercare perché ho spiegato tutte le caratteristiche di questa pianta comunque unito ad esempio al cissus in canus tisana o capsule abbiamo un'azione utile a rinforzare il nostro sistema immunitario e a fortificarlo proprio da aggressioni esterne anche quindi dai virus va anche a modificare l'ambiente intestinale rendendolo inospitale ad alcuni tipi di parassiti e quindi anche questa è un'ottima e importante azione ha un'azione proprio anche emolliente un attimo stimolante la graviola sull'intestino pigro e quindi questa versione è da preferire rispetto alle altre due formulazioni proprio alle persone che hanno ad esempio dei rallentamenti intestinali perché li aiuta un pochino di più ovviamente questa formulazione è vegana così come la versione natural mentre quella al miele è vegetariana proprio per la presenza di miele che è prodotto è un prodotto animale che i vegani non utilizzano però i vegani con Vegas sono felicissimi perché quasi tutti i prodotti sono vegani e quindi c'è comunque molta scelta questa versione con graviola è consigliata anche per chi soffre di stress e ansia e soprattutto è ideale quando si sta facendo una disintossicazione anche legata a una dieta per esempio un ottimo abbinamento è l'aloe graviola con il bruciagrassi alla carnitina e perché è importante perché le tossine che si smuovono con una dieta unita proprio all'azione lipolitica cioè bruciagrassi della carnitina vengono eliminate più facilmente sostenendo il duro lavoro del fegato che è impegnato nel dimagrimento il contenuto di zuccheri in questa versione qua rispetto a quella al miele scende a 3,5 grammi per dose giornaliera di 90 ml quindi veramente molto poco la graviola unita all'aloe ha anche proprio un effetto antinfiammatorio è diuretica pulisce i nostri organi e montori che sono appunto i nostri filtri esattamente come dicevamo prima per l'auto i filtri devono poter funzionare bene i sistemi di detossificazione sono paragonabili al cambio della spazzatura se smuovo le tossine devo anche avere un buon servizio di smaltimento se no le smuovo e poi le nascondo sotto il tappeto e vanno a creare più danni quindi quando inizio un processo di depurazione o una dieta devo fare in modo che le tossine che sto smuovendo che vengono liberate soprattutto quelle all'interno della massa di posa del nostro grasso devono comunque essere accompagnate al cassonetto e questo ce lo consente assolutamente l'abbinamento di un ottimo prodotto come questo quindi aloe graviola unito a un buon stile alimentare e al fatto di comunque bere molto ci sono delle avvertenze nel consumo di aloe in realtà sono molto poche ma per correttezza professionale ve le faccio presenti allora l'aloe non va utilizzata da chi usa farmaci anticoagulanti ad esempio i nomi commerciali incumadine piuttosto che leparina ad esempio e non va utilizzata per chi ha problemi nella gestione degli zuccheri perché ci possono essere delle interferenze con i farmaci o con le piante ipoglicemizzanti cioè quelle che abbassano la glicemia altra indicazione non va dato alle persone con problemi tiroidei che stanno assumendo farmaci e ormoni tiroidei ad esempio l'Eutirox il Chirosint eccetera eccetera nella versione con graviola le possibili interferenze riguardano i farmaci per la pressione i beta bloccanti i diuretici i risparmiatori di potassio gli ace inibitori i sartani insomma i calcio antagonisti in questi casi è sempre il medico che deve decidere ed è il medico a cui occorre fare riferimento e che deve dare il proprio benestare all'assunzione di aloe così come tutti gli integratori in tutti i pazienti che assumono farmaci quindi la prima domanda da porsi è chi ho davanti e se ha delle patologie se sta assumendo dei farmaci se ci sono queste tre condizioni fermate un attimo le cose proponete l'etichetta la bottiglia le informazioni al medico e sarà il medico curante a decidere se la persona può prenderla o no per tutti gli altri invece per tutte le altre persone che non assumono farmaci assolutamente via libera questo straordinario rimedio nella natura nelle sue tre versioni a scelta a seconda dell'obiettivo che vi state riproponendo il dosaggio l'abbiamo detto prima sono i 30 ml per tre volte al giorno per agevolare la somministrazione io consiglio anche di mettere tutti e tre i misurini da 30 ml nella bottiglia quindi la versate nel misurino contate i tre misurini la mettete nella bottiglia la bevete durante tutta la giornata fuori dai pasti è una cosa buona oltre che etica visto che ci soffermiamo anche su questo dotarsi magari della propria bottiglia in vetro nella borraccia d'acciaio per il trasporto della nostra acqua e aloe in modo da continuare la cura e l'attenzione che l'azienda ha già messo nel prodotto mettendola nella bottiglia di vetro quindi per concludere questa lezione informativa non chiedetemi più perché dovreste bere aloe perché la mia risposta non può essere nient'altro che questa perché non dovresti berla la natura ci ha messo proprio a disposizione una pianta straordinaria come poche aiutiamoci quindi a star bene a migliorare la qualità della nostra vita a prenderci cura in via preventiva anche della nostra salute la versione che potete provare appunto le versioni sono tre ve lo ricordo la natural la greviola e la honey e potete acquistare la singola bottiglia che a questo dosaggio vi durerà più o meno dieci giorni quindi tre bottiglie vi durano un mese è sempre buona cosa utilizzare un integratore per due barra tre mesi per aiutarvi in questo cosa potete fare potete acquistare i set attraverso un consulente vegas attraverso me o attraverso chi vi starà mostrando questo video informativo quindi contattate la persona che sta condividendo questo video e chiedetegli anche come fare ad acquistare eventualmente il set da sei bottiglie in cui il prezzo è già straordinario perché praticamente ne pagate cinque e ne ricevete sei ma c'è anche la possibilità con vegas di aprire il vostro codice come consumatore finale o come distributore indipendente quindi avere un ulteriore sconto nel 30% in questo vostro acquisto quindi avere il prodotto massimo per la vostra salute ma con un prezzo davvero scontato quindi siccome ormai avete capito che la qualità è altissima che non la troverete altrove che fa bene per mille cose e quindi praticamente è adatta a tutti beh cosa aspettate contattateci contattate noi consulenti vegas del benessere contattate chi vi sta proponendo questo video esplicativo su tutte le proprietà e salute ormai è un'abitudine veramente giornaliera e sana io spero di aver risposto a tutte le vostre domande ai vostri dubbi se vi fa piacere e se dopo aver ascoltato questa informazione avete capito che magari l'Aloe fa per voi o fa al caso di qualcuno dei vostri amici dei vostri parenti perché avete capito che possono trarne dei benefici condividete questo video fate a vostra volta informazione e cerchiamo di brindare insieme con l'Aloe grazie a tutti per essere stati con me per avermi ascoltato ripeto sono a vostra disposizione per eventuali domande scrivetelo nei commenti contattatemi in privato fate come volete arrivederci a presto con le prossime informazioni ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti